Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, che se giochiamo a Fortnite Eh no Steph, oggi non giocheremo a Fortnite perché giocheremo a Tombola Non siamo impazziti, ve lo giuro, non siamo impazziti Abbiamo pensato, di solito pensiamo sempre all'ammazzare i player, a vincere il game come è normale che sia Quest'oggi invece facciamo una sfida di loot Abbiamo scritto 15 oggetti da trovare dentro appunto il mondo di Fortnite E chi riesce a trovarne 5 della stessa riga o tutti e 15, vince È una cosa davvero complicata Ovviamente se riusciamo a finire la sfida poi penseremo anche al game normalmente Quindi a sparare, ammazzare eccetera eccetera Però alla base saremo uno contro l'altro in una sfida di loot Il posto migliore per giocare a Tombola secondo te qual è Fer? Dimmi un po' Ah non lo so, un posto dove c'è tanto loot Però allo stesso tempo ci devono essere poche persone Perché altrimenti non possiamo completare la nostra sfida Non possiamo focalizzarci sulla Tombola Certo, certo, certo Infatti secondo me un parco pacifico stavolta è lontanissimo Dai ci sta, ci sta E mi aspetto massimo due team ma proprio massimissimo Il posto è sempre frequentato Lo so Allora comunque ti volevo dire Io mi focalizzo su una singola riga Anche io Perché secondo me troverai tutti e 15 gli oggetti è semi impossibile Quindi mi focalizzerò su una sola riga E penso di focalizzarmi sulla terza Ma è quella che volevo fare io Perché mi sembra la più semplice A meno che non trovo magari subito qualcosa delle altre Che trovo Se trovo la granata d'impulso della riga 2 La riga 2 diventa abbastanza semplice Ovviamente Non la trovo Diventa difficile perché rara No anch'io farò sicuramente una scheda Pistola silenziata Ma dai Pistola E anche shield grande Ok Allora dimmi che erano tutti dello stesso Pistola silenziata E no shieldini Pensavo shield Ci mancava solo quello Porca miseria Che avevi già fortuna Altro shield grande E vampa fucile Vampa fucile E mi sa che non c'è nessuna riga No non c'è Non c'è Uh pistola silenziata pure io Ma porca miseria Recupero anche delle bende Così poi decido se cambiare Sai che la pistola silenziata Era la cosa più rara di quella riga Dopo il cecchino che spara a ripetizione Ok Quindi quella riga la vince Chi trova il cecchino a ripetizione Senza ombra di dubbio Adesso abbiamo un'intera città Da allutare velocissimi Manca ci passano player Perfettizione Steph Perché comunque sai bene Che le persone arrivano anche in ritardo In questi posti Eh no Tu stai cercando di distrarmi No non ti voglio distrarre Ti sto avvisando Questa è tombola Altro che sparare Allora shield grande Dov'era lo shield grande Lo shield grande era nella seconda riga Cara mia Sì però non c'è la pistola silenziata La pistola silenziata È nella terza riga Sì Quindi per ora Eh io volevo continuare a fare La terza riga Invece per ora lo prendo Ed è la prima riga Devo trovare uno di tutto Shieldini della seconda riga Perfetto Ok Ma gli shieldini secondo te Visto che sono tre Ce ne possiamo bere due E tenere uno Beh sì Dai sì Dai dai Non siamo così Così fiscali Esatto 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 Le bende Della seconda riga Io ho anche delle bende Uno shield grande Che ancora non ho bevuto Perché voglio decidere un po' Cosa devo fare Con questa Con la fila Capito Con la riga Quindi per ora Ho tutto nella barra E poi deciderò Ok Allora Qui sopra c'è una chest Che sta nella parte di qui Esattamente Non sto andando male Ma tanto lo so E il cecchino a ripetizione È il punto chiave Ho trovato anche il pompa tattico Cavole mo Allora io continuo a luttare Quando avrò l'inventario pieno Rischio Prendo una decisione sulla riga Io ho deciso la mia riga Ok Perché ho trovato una roba rara Di una delle tre righe E ho deciso così Ok Vuoi un indizio? Sì È un cecchino Ma non è quello che volevo Vabbè Che vuol dire? Che è la seconda riga Fede Era ovvio Ho trovato un fucile di precisione Ah ma questo è il cecchino Aspetta Cosa? È nella mia riga Quindi sì Faccio la tre No L'ho trovato No Hai trovato No Sì 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 No Ho deciso Faccio la terza riga Cioè cecchino ripetizione Nei scillini Lo shield me lo posso bere Ma le scillini Non le hai mai trovati tu? No Ok Aspetta di trovarli Le M16 non le ha trovato Ok quindi la balestra è diventata La cosa più rara che non hai Perfetto Ok buona a sapersi Buona a sapersi Buona a sapersi Anche io non sono messo male Perché ho le bende Lo shield grande Il cecchino E il pompatattico A me mancano soltanto Le granate d'impulso Ma no dai Vabbè però siamo uguali A livello di rarità Forse le granate d'impulso Anzi sono un pochettino Più rare della palestra Eh sì Dicido però secondo me sì Assolutamente sì È una sfida all'ultimo loot Fere Mi sta divertendo È divertente Sai come si potrebbe fare La versione estrema Un lancia granate ho trovato Anche io ce l'ho Leggendario Allora Dicevo Ho deciso la terza riga Sai che faccio? Mentre bevo lo shield Inizio ad appennare Pistola silenziata Cecchino Con più di un colpo Bellissimo Bellissimo Sì ma Mi stavo parlando Stavi dicendo Vai dimmi Che la versione Più difficile di questa sfida Potrebbe essere Pensando anche Alla rarità Degli oggetti Sì si potrebbe fare Dai ho trovato La bomba ballerina Io non ci credo Io non ci posso credere Io non ci posso credere Cioè ho tutto Tranne la granata d'impulso Che poi Dopo che vinco nel caso Devo andare a riluttare le cose Perché sto tenendo schifezze Ovvio Che non mi servono Quindi nel caso dovrò anche Ma vabbè le cose che sto trovando Steph tu non hai capito Cioè le devi lasciare per terra Le RPG? No per ora lo prendo Ok Non ho altro quindi Finché non trovo Quello che mi va Tanto le bende Non le dovevo tenere per forza Infatti Un solo oggetto per me Un solo oggetto per Fere Vediamo chi lo trova prima Il mio è più raro A me due Steph Uno l'avevi visto una chest Ti prego Ti prego La cuccia del cane Fatemela trovare No Stavo volendo a rubarti Qualcosa Se fosse stato utile No Steph A me ne mancano ancora due Beh ma dai Gli ciglini di trovo Eh ma continuo a non trovarli Quindi non è che è una cosa Così scontata Scusami eh Non so se voglio che tu mi segui Dai andiamo insieme Non rompere Che poi se ci attaccano Moriamo Comunque in tutto questo Non voglio finire Mentre noi giochiamo a tombola Siamo rimasti 34 player Sì Sì Non vorrei dire Ma giocare a tombola È anche conveniente Per vincere E si erano andati tutti a Pinnacoli Ad uccidere Sì come sempre E roba del genere Cioè io ho l'equipaggiamento Più brutto del mondo Che io C'è Kino Shield Bende Pompa E lancia granate Sto guardando Terribile Terribile Siamo di nuovo Dentro la zona Ok Una cesta La vedo Quindi non hanno luttato Ok Ok Però fai attenzione Qua secondo me Possiamo iniziare a incontrare qualcuna Cosa è quella roba blu? Shield Non mi serve Ah dai Degli shieldini Io vado Io vado a luttare Non deve trovare la balestra Non deve trovare la balestra Cavolo Però non è rara Quella schifezza di arma Si trova sempre Porca miseria No aspetta eh Si trova sempre Ma non così tanto Su Cioè non è possibile Non è possibile Non trovo quelle dannatissime Granate all'impulso Ah È un complotto questo Cesta indovina che ho trovato Vampa a fucile Cioè se avessi fatto una riga Di cinque vampa a fucile Avremmo già vinto da un pezzo Sì 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 Già fatto Già fatto Decisamente Decisamente Ok Altra cesta qui Dai Dai È il momento Ho sbagliato a fare la scala C'è merito di non prenderla Sì Ti prego Le ceste dell'ombrello Sono la mia ultima speranza Sono la mia ultima speranza Ceste dell'ombrello Stanno anche sparando Hai sentito? Sì Sono vicini eh Io se ne la trovo qui Vado sui player Sì Ti prego Minigun leggendario Io non ho più parole Ma come? Io non vado avanti con questo discorso E non me lo posso neanche prendere Perché mi devo Mi prego Basta Basta Vabbè 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 Con una granata Che non ho Credo sia out of zone Ma che senso ha Come? L'altro è dentro Sono due airdrop Ma sei sicuro? Eh penso di sì Ok Quello si è fuori dalla zona E l'altro? Boh Ah no 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 È malapena dentro È malapena dentro Vabbè Mi sembrava strano Vengo anch'io Steph Per la mia balestra Non puoi rubarmi pure la legna Che uso Eh certo Certo Dobbiamo comunque giocare insieme Abbiamo joinato Il team in coppia Se non volevi Non avremmo joinato Il team in coppia Steph C'è Cecchinateci Dai Siamo qui Io mi faccio un muro davanti Sopprimete tutta questa sfida Che non ne posso più Dai Ho visto Le trovate? Dai davvero? No che schifo che fai No 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 Steph Guardami qua 40 di vita No sei una persona terribile Dai adesso potevamo giocarcela Siamo solo in 12 Era la mia Hai un medico No perché Ho le bende Ho le bende Tanto ormai posso tenermi le cose Basta Sì sì È finita la sfida Allora infatti a proposito Dato che è finita Sinceramente Io le granate di impulso Prefisco a lanciare granate Ok Ehm Aspetta Cos'è quella roba viola? Ah sì Sto cercando di risalire sopra Tieni Ovviamente scendono Quindi prendi Super triste E mentre stiamo qua Sembra abbastanza safe Sì E vince la Tomola Poi per un oggetto Quindi adesso scommetto Che uccido qualcuno Trovo pure una barata Però la mia riga Era pure più difficile Quindi c'è Ti ho surclassata Ma non è vero Anche la mia Ho avuto un sacco di fortuna E non mi è servita a niente La fortuna E adesso mi ritrovo anche Senza un accidente di fucile a pompa Steph Ehm E con la vita non piena Per colpa tua Io non ho l'M16 Fere È peggio non avere l'M16 Io ce l'ho Io ce l'ho Cioè Almeno c'è l'RPG Te no? Sì Sì Ebbè certo Non ho trovato Facciamo scambio Con cosa? Sì Ci sta Vero Ci sta Ok Così almeno A media distanza Io ti romissimi Cosa devo fare Ok No fare ti servono Ah è vero che sono gli stessi colli Eh vabbè ma ne hai? Sì Tranquilla Avevo lanciato granate Quindi qualcosina ce l'ho Ne ho sette Certo certo Perché siccome ne avevo tanti Te li potevi anche tenere Me l'hai data già con sei granate Ah ok Basta capito Eh di fronte a noi Costruzione Ok Vuoi fare una cosa folle? No Gli entriamo No non la voglio fare Vabbè andiamo ormai Con l'air drop C'è con il trampolino? Andiamo Vado Hai pure il trampolino? Sì È perché accidentemente Non l'hai messo sotto l'air drop Fallito Mi sono dimenticato Come ti sei dimenticato Steph? Oppure hai sbagliato Ma a me Hai sbagliato malissimo C'è qualcuno? C'è del loot Un lanciagranate E sono morti Sì Bene Ok quindi perché Voglio dire che sono stati Vabbè teniamoci stati Sotto di noi Ok Eh ma molto sotto di noi Proprio tanto Ah no qui sotto Ok Ma sei sicuro Che hanno costruito In questo momento? Ah eccoli Ok Ok Dimmi che c'è un M16 amico Quello è un altro trampolino Lo voglio Vai M16 Il medikit Lo prendo Ok Hai visto i missili? Ah no non a noi Perfetto Fucilapompa E Vabbè me lo prendo Meglio di niente Cavolo non ho più colpire Le missili Riesci a darmi lì al volo? Sì Mi stai seguendo sì? Sì ti sto seguendo Eh ho cambiato Praticamente la pistola silenziata Con un fucile a pompa Anche se quello ha un colpo Però è sempre meglio di nulla Preferisco l'altro Però va bene lo stesso dai Allora vieni qua Mi dai missili Ok li sto proprio Ora che mi abbia visto però eh Davvero? No forse no Era intanto a costruire Ok Ok Butta Vediamo Te ne ho dato la mezza Forse qui Scusa Gli ho divisi No ok Gli ho divisi per sbaglio Però vabbè Se te ne servono altri Ne vedo uno sotto di noi Lo stanno sparando con l'RPG Quindi non l'ammazziamo Perché è in difficoltà Sì 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 Probabilmente muore Muore da solo Non lo so Sì Guarda che tristezza Lo stanno proprio Missilando malissimo E non si è accorto neanche di noi Beh come potrebbe È appena morto No no c'è un altro Lo vedi? Ah sì Lo vedi? Osco Vabbè visto che ci siamo Scusa Scusa Di fronte a noi altri Ok Fere Dimmi Vogliamo rivolare? Va vai Ho sbagliato Pronta? Vai Ok Li hai visti? Sì Non ci sto a capire nulla Uccidilo Ok l'altro Io non l'ho anche buttato giù Ma c'era l'altro No è stata un po' una follia Questa di Lo so Poi quando lanci i missili C'erano queste esplosioni Non capivo più dove fosse Ma perché altro Ho colpito entrambi con un missile Ma erano entrambi totalmente full shield E io avevo l'RPG blu Che alla fine Non fa troppo Comunque mi sa che muoiono pure Quindi nel caso Dai Ci sta Ci sta E poi è andato bene Per essere il game della tombola Sì no certo Siamo anche andati bene Cioè che fino all'ultimo Comunque avevamo un loot Abbastanza schifoso Direi che è andato bene Grazie a tutti